Cosa differenzia una semplice ammiratrice di Jane Austen? Oh, Jane, sei decisamente peggiorata. Da una sua fan accanita. Il numero di volte che ha letto i suoi romanzi. O l'amore appassionato per Mr. Darcy. Aspetta, questo è il punto più bello. Non è possibile. No, una fan coglie l'occasione di venire qui nell'unica, totalmente immersiva Austen Experience. Va anche lei in quel posto di Darcy? Sì, ho imparato a memoria tre capitoli di orgoglio e pregiudizio a tredici anni. Ha imparato che cosa? Benvenute nell'epoca Regency. Che spettacolo. Mi aspetto che le mie ospiti rifuggano qualunque modernità. Ho il piacere di presentarvi Miss Jane Austen, un'orfana senza fortuna. Ha comperato il pacchetto rame base. Sei nell'ala della servitù, in una torre spaventosa. Mi ho speso tutti i miei soldi per questo. Oh, guarda. È uno di quegli uomini alla Mr. Darcy. So che ci sarà un ballo l'ultima sera. Spero vi piaccia danzare. Non particolarmente. Voi siete stata sfortunata in amore. Non sono sposata perché gli uomini che ne varrebbero la pena non sono reali. Che ne pensate di quella Jane? Un tipo curioso, eh? You try to catch her out Palli, oh, a cazzo oggi me ne andrò. Sono un po' incasinata, vero? Ho deciso, prenderò il comando della mia storia. Tutte le eroine di Jane Austen si fidanzano alla fine del libro. Lo farò anch'io. Tu mi piaci davvero. E se vuoi andartene da qui? Mr. Stoyle. E se vuoi andartene da qui?